Il centro storico di Sassari è in piena emergenza, degrado in ogni angolo. Ce ne parla Emanuele Floris. Lungo controllo ieri sera in un locale di Corso Vittorio Emanuele nel centro storico. A intervenire i NAS e la polizia locale guidata dal comandante Gianni Serra, che hanno esaminato spazi e condizioni sanitarie del ristorante, che alla fine però è stato lasciato aperto. L'operazione congiunta nasce dopo diverse segnalazioni dei residenti, ma anche all'interno di un interesse per Sassari Vecchia, che almeno a parole risulta rinnovato. Le sue note criticità, dallo spaccio alla prostituzione al degrado, sono state messe al centro del programma d'azione dei candidati sindaco nelle recenti amministrative. E lo stesso neoprimo cittadino, Giuseppe Mascia, ha ribadito al momento della presentazione della giunta che tra i primi interventi previsti ci sarà quello di creare un gruppo di lavoro per il centro storico. Ma al di là degli intenti, come quelli dichiarati a suo tempo dal ministro Matteo Salvini, che scelse proprio questa zona come una delle mete del sotturo elettorale, il disagio continua inarrestabile. A testimoniarlo sono le serrande abbassate e i cartelli vendesi delle diverse attività commerciali, inseriti in un contesto di svuotamento progressivo dei residenti ed economia, con il rischio che in futuro il centro storico diventi un luogo di nessuno, abitato soltanto da forze dell'ordine, come è accaduto nei recenti blitz, e una dimensione borderland sempre più estesa.